L'ondata di maltempo ha colpito ancora in Friuli non tantissimi danni fortunatamente ma parecchi disagi soprattutto a Bicinicco e Lignano e se di Bicinicco abbiamo già parlato con un fulmine che ha colpito una casa provocando un incendio fortunatamente sedato a Lignano invece sono caduti alcuni lampioni che sono stati catapultati in mezzo alla strada provocando disagio alla viabilità poi alcuni cartelli stradali sono stati divelti si sono allagate alcune cantine di abitazioni private ma i danni più ingenti si sono invece verificati all'hotel Capanna d'Oro nel parcheggio sul retro della struttura che si sviluppa tra il lungomare Trieste e Viale del Bosco un albero è caduto sulla tettoia della rimessa per le automobili che erano sostate lì sfondandola ma non solo perché sotto la tettoia sfondata vi era un'auto che è stata quasi completamente distrutta dal peso dell'albero graffi su tutta la carrozzeria spaccato uno specchietto retrovisore e soprattutto completamente sfondato il parabrezza anteriore illesi ovviamente i proprietari dell'auto che fortunatamente non si trovavano in macchina al momento del fatto avvenuto intorno alle ore 20 di giovedì 1 agosto resterà ora da capire di chi sia tra virgolette la colpa perché il comune ci spiega il direttore della struttura chiede di fare manutenzioni ma allo stesso tempo vieta di tagliare gli alberi situazione quindi non facile i proprietari dell'auto sono stati comunque coperti dalla casco Rocco Rocco